CrossFit Italian Showdown Con oltre 8.000 presenze in tre giorni, 288 affiliati da 23 nazioni e 1.000 concorrenti sul posto, è il più grande raduno della community di questa disciplina in Europa. Divenuto evento riconosciuto e certificato da CrossFit, i vincitori maschili e femminili ricevono d'ufficio l'invito a competere ai CrossFit Games 2019. L'appuntamento è per la prossima settimana. CrossFit Italian Showdown. Solo su Icarus. CrossFit Italian Showdown. CrossFit Italian Showdown. CrossFit Italian Showdown. Grazie a tutti.